Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta. Torniamo a parlare di sci di fondo Livigno che con l'apertura della sua pista già avvenuta nel mese di ottobre ha ospitato diversi campioni dello sport nazionale di internazionale e quest'oggi ho il piacere di avere ospite Giulia Sturz nazionale di sci di nordico. Ciao Giulia. Ciao a tutti. Ciao, è un piacere averti ospite. Dicevo a Livigno in autunno perché questa puntata è registrata e siamo nel mese di novembre e vi trovate qui per un raduno. Le gare saranno per cominciare una neve di Livigno che ti piace, ti soddisfa? Sì, indubbiamente è un punto sul quale noi possiamo fare affidamento perché da noi purtroppo la neve tarda ad arrivare e quindi è già il secondo anno che veniamo a Livigno per qualche giorno sulla neve e è spettacolare sia dal punto di vista della neve che le piste sono sempre preparate in maniera ottimale e anche per un punto di vista del dopo sci diciamo. Beh certo, abbinare l'utile al dilettevole non guasta mai soprattutto con un Livigno che offre anche un buono shopping c'è da divertirsi. La stagione agonistica è già incominciata con la Coppa Italia dapprima in quella di Santa Caterina a Val Furva ma non solo, è già cominciato anche il circuito di Coppa del Mondo e appunto di Coppa del Mondo il tuo focus primo step stagionale in vista forse di una mondiale, probabilmente sarà questo il tuo obiettivo stagionale? Sì, sicuramente il mondiale di Latti è il mio obiettivo principale della stagione ma ci terrei a fare molto bene anche il tour de ski, soprattutto puntando alle ultime due tappe finali che sono a casa mia. La famosa famigerata salita dell'Alpe Cermis. Sì, sicuramente non è il mio punto di forza la salita di 9 km però è un'atmosfera, è comunque una gara che non è uguale quindi sarebbe sicuramente una grande emozione parteciparvi. Certo, indubbiamente. Giulia, tu sei un'atleta sprinter, balzata agli onori della cronaca nazionale per le due, anzi tre scusa, medaglie di bronzo ottenute ai mondiali Under 23 di cui un paio, forse una, me lo ricorderai meglio tu, ottenuta in casa tua qualche anno fa. Ci racconti quell'esperienza del mondiale junior della Val di Fiemme? Ma sì, sicuramente quella gara sprint a casa è stata un'emozione pazzesca era il mio primo anno senior e il mio primo mondiale Under 23 quindi non sapevo cosa aspettarmi poi in realtà non sono una sprinter perché mi manca la velocità della qualifica però so giocarmi bene le batterie fino alla finale e anche là senza aspettative mi ricordo di essere arrivata in finale molto serena e tranquilla e mi ricordo questa bellissima giornata con moltissima gente del mio paese e la mia famiglia che era lì a tifare è stata un'emozione che penso sia stata una delle mie più grandi emozioni nel campo dello sport È stato il tuo trampolino di lancio? Diciamo che lì ho iniziato a conoscermi meglio come atleta e quell'estate mi ero allenata ponendomi grandi obiettivi che poi mi hanno portato a confermare il bronzo in Kazakistan con la medaglia di bronzo sprint anche lì è stata inaspettata perché inizialmente con la gara non volevo neanche farla perché non avendo la qualifica da sprinter e poi non amando così tanto il classico volevo quasi saltarla e poi invece la qualifica come sempre non era andata molto bene poi senza aspettarmi molto ho iniziato dai quarti semifinale e ho detto perché non provarci e è arrivato anche lì un bel risultato invece l'anno scorso non è andata come volevo infatti non ho partecipato all'ultimo mondiale under 23 e forse avendo troppe aspettative visti i risultati delle passate edizioni sono arrivata a casa con l'amaro in bocca non sei una sprinter pura quindi quali sono le tue caratteristiche? ma in generale a me piace molto correre sull'uomo perché mi piace fare tattica sulle altre avversarie mentre quando mi ritrovo da sola a rincorrere il tempo a cronometro mi trovo un po' più spiazzata perché mi piace giocare di più con l'avversaria che ho vicino e in generale preferisco la tecnica libera però devo dire che quest'anno ho lavorato molto sulla tecnica classica e anche ai test che abbiamo fatto durante l'estate e durante l'autunno ho riscontrato dei buoni risultati Giulia per te da quest'anno o dall'anno scorso l'ingresso nella nazionale under 25? Sì, diciamo che hanno denominato la squadra under 25 però è tre anni che sono in squadra B nell'under 23 allenata da Pietro Piedercotter quindi lo conosciamo tutti, plurimedagliato olimpico e mondiale è un buon allenatore? Sì, a me con Pietro piace molto avere un dialogo aperto e avere bene le idee chiare e quest'anno soprattutto abbiamo lavorato molto sugli obiettivi stagionali cercando di fare piccoli passi e devo dire che avere a fianco un allenatore con l'esperienza che ha Pietro è sicuramente importante perché riesce a darci la sua dose di esperienza che un qualsiasi altro allenatore non ha Certo, certo Dopo è anche vero che la campione alcune volte non è capace di trasmettere al proprio atleta le proprie sensazioni ma invece penso che un Pietro Piedercotter sia uno di questi che è in grado, ha un approccio molto diretto con voi e quindi mi sembra vi dia dei consigli giusti, azzeccati, le giuste tattiche di gara Sì, poi ormai con Pietro lavoriamo da tre anni quindi ci conosciamo abbastanza bene poi è da dire che come punto di riferimento abbiamo Pietro però siamo una grande squadra quindi è un lavoro a più mani con il massaggiatore i tecnici i tecnici che controllano dall'alto quindi è un lavoro a più mani che sicuramente il punto di riferimento è Pietro però siamo una grande squadra Certo Accennavamo a microfoni spenti parlando appunto del raduno con Livigno delle tempistiche di una tua giornata tipo insomma alla fine arriva presto sera, la giornata vola e tanto tempo per riposare o come accennavamo per fare shopping a Livigno ce n'è ben poco ci racconti una tua giornata tipo di un raduno magari quali Vigno? Quali Vigno? Noi alloggiavamo all'Alpen Village e ci svegliavamo quando dovevamo fare i test per avere la pista un po' più libera anche alle sei e mezza però generalmente alle otto colazione dopo la colazione dobbiamo sempre controllare il materiale per la mattinata con gli sci che ci sono arrivati nuovi abbiamo approfittato molto delle diverse condizioni delle varie giornate per testare gli sci e i nuovi materiali scusami Giulia ti fermo per un secondo test materiali vi vediamo in pista veramente con una marea una merida di sci a testa quanti più o meno? ma diciamo che ogni anno chi ci procura gli sci ci dà più o meno 5-6 paia di sci però chiaramente non sempre è detto che gli sci nuovi siano i migliori quindi dobbiamo confrontarli con quelli vecchi vedere se quelli vecchi rispettano i test degli anni passati quindi un test ottimale è di 3-4 paia di sci poi bisogna testare la sciolina perché se nevica, se è caldo, se è freddo cambia anche lo sci o i nuovi ponti per la sciolina quindi quando hai parlato di ponte come non chiederti che cosa significa il ponte dello sci? in tecnica classica abbiamo due tipi diversi di sciolina c'è la stick che è una sciolina per una neve più fredda mentre verso fine stagione quando la neve diventa pappa o è un po' più ghiacciata abbiamo bisogno di una sciolina più calda che è la clister quindi la stick è quella propria stick che si posa sullo sci in maniera magari anche più veloce mentre la clister è il classico tubetto che appiccica appiccica non è molto bello da avere a che fare però sì, è un gran lavoro quando alla tv anche io vedo gli altri sport vedi l'atleta che è già pronto al calcelletto di partenza però dietro c'è un grande lavoro assolutamente dei famosi ski men abbiamo già aperto più volte questa parentesi che fanno una vitaccia perché sono sempre richiusi nei loro scantinati a preparare sci Giulia tu accennavi a sci vecchi che molte volte magari vanno meglio degli sci nuovi voi avete occasione di apportare un feedback alle varie case che vi producono gli sci per avere una personalizzazione dello sci nel senso tu Giulia Sturz vai alla Fischer di turno non so nemmeno con che sci tu sci però puoi apportare le tue sensazioni personali oppure gli sci sono standard e vanno riprovati ogni volta? sì io appunto scio con Fischer ogni anno tramite un tecnico che fa da riferimento alla casa produttrice noi comunichiamo le nostre esigenze magari hai più sci che vanno sul caldo hai bisogno di sci sul freddo e quindi ti vengono a noi arrivano gli sci che proviamo e il più delle volte sono sci comunque buoni che possiamo tenere per la stagione altrimenti ogni casa è molto disponibile al ritiro degli sci o qualche cambio in ogni caso prima di cambiare uno sci ci sono delle varie accortezze a cui puoi fare attenzione per esempio la montatura dell'attacco o il cambio della struttura perché magari ti arriva uno sci con una struttura intermedia e hai bisogno di modificarla facendo affidamento magari ai tecnici della nostra squadra noi appunto collaboriamo con il centro federale del fondo di lago per modificare le strutture o per vedere cosa si può fare prima di cambiare uno sci che magari non sei pienamente soddisfatto certo beh insomma la parte tecnica è fondamentale così come in ogni disciplina hai accennavi tu sei di lago di Tesero di Tesero ma è tutto lì vicino ok quindi sede dei vari trofeo topolino sede della marcia longa insomma una grande traduzione per lo sci di fondo e una tra le campionesse emerse dalla tua zona sei proprio tu non potevi fare altrimenti oppure avresti potuto fare altro sport da piccolina frequentavi un'altra disciplina no io ricordo che i miei hanno provato anche a mettermi sull'isci da discesa ma ho proprio una foto a casa mentre piango costretta agli isci da discesa invece per me è stata sempre una tradizione di famiglia infatti sia i miei genitori che le mie due sorelle hanno sempre sciato e fatto sci di fondo e solo magari verso la fine della stagione facevano qualche uscita sulle piste da discesa però essendo anche in Val di Fiemme una tradizione io mi ricordo che fin da piccola adoravo fare sci di fondo poi ho conosciuto anche vari amici che praticavano questo sport che praticano ancora adesso quindi a me piace perché anche quando sono a casa non sono mai da sola durante gli allenamenti e poi posso portare anche ancora adesso in pista i miei genitori e la mia famiglia a fare qualche uscita tutti assieme beh assolutamente mi accennavi tuo papà ha già fatto farà la marcia lunga così come tua mamma sì fino per due anni ha fatto la marcia lunga story un po' per ridere poi l'anno scorso come regalo di compleanno gli abbiamo regalato l'iscrizione alla marcia lunga e all'inizio non ne voleva sapere perché era preoccupatissima invece adesso quando sono andata a Livigno è stata contenta perché gli ho potuto lasciare i miei schirol di allenamento beh quindi insomma la prende anche abbastanza seriamente sì perché poi comunque i chilometri sono tanti e non arrivare distrutto non è proprio il massimo certo è una gara che probabilmente farai anche tu da grande insomma tra qualche anno sì io mi ricordo la prima vittoria alle mini marcia lunga poi ho partecipato anche alla marcia lunga young e poi adesso tutti mi chiedono quando farò la marcia lunga però è un periodo sempre un po' particolare perché è vicino ai nostri mondiali quindi non è una gara che potrei improvvisare così a fine stagione però indubbiamente è una gara che dovrò fare perché anche come atmosfera così è davvero speciale hai ragione ed è proprio vero per te lo scorso anno le porte della Coppa del Mondo ti si aprirono così? sì devo dire che della scorsa della passata stagione non sono pienamente contenta perché appunto volevo confermarmi a livello dei mondiali under 23 che però non sono andati come volevo però al contrario sono riuscita a togliermi qualche bella soddisfazione in Coppa del Mondo ho partecipato a Falun dove avevo quasi raggiunto le prime 30 di Coppa del Mondo poi ricordo la staffetta 9 Mesto dove dopo tanti anni siamo riusciti ad arrivare seste e poi mi sono qualificata al Tour in Canada dove proprio alla fine quando meno me lo aspettavo sono riuscita a raccogliere i primi punti in Coppa del Mondo dicevamo quest'anno invece il campionato del mondo proderà in Finlandia a quale gara punti di partecipare? c'è una 10 in classico che visti i miglioramenti nella tecnica mi piacerebbe partecipare ma soprattutto io una delle gare che mi piace di più è lo skiathlon che è la combinazione della tecnica classica e della tecnica libera e soprattutto anche la la staffetta certo quando parli di staffetta a noi di Livigno ci viene in mente la nostra Marianna Longa erano i tempi in cui la movimento al femminile grazie anche ad una Marianna Follis insomma si guardavano le staffette le azzurre erano quasi sempre sul podio erano da podio c'è stato un cambio generazionale ed ovviamente largo alle giovani in questo momento com'è lo stato come lo definisci lo stato del fondo azzurro femminile ma secondo me è un movimento in crescita infatti io ricordo che quando ero piccola non mi rendevo ancora conto di questo gap che avrebbero lasciato la Longa la Follis la Genuine però poi passando di categoria Senior mi sono proprio accorta che ci sono mancati punti di riferimento ma io credo che anche con il lavoro degli allenatori pian piano stiamo stiamo cercando di migliorare sempre di più in Coppa del Mondo certo hai ragione forse vi è mancato la Traino per risalire insomma c'è stato forse un buco generazionale nel settore femminile però come tu hai detto bene pian piano si risale la china che è sempre comunque dura ed estenuante in campo maschile però avete un Traino che si chiama Federico Pellegrino così come Francesco De Fabiani e fanno bene al movimento sì loro sono sicuramente dei fuori classe che sicuramente fanno bene anche noi perché vediamo come riescono ad allenarsi e si cerca sempre di di imitarli o comunque fare in modo che anche noi cioè di avvicinarci un po' ai loro risultati poi non è sicuramente facile però io penso che anche quest'anno che siamo riusciti ad allenarci in un bel gruppo noi donne noi della squadra B siamo riusciti ad allenarci con quella della squadra A è sicuramente stato di grande stimolo assolutamente Giulia sicuramente un anno intenso il vostro con presumo forse un mese di riposo durante a fine stagione e poi si ricomincia con l'allenamento estivo e appunto nel tempo libero hai degli hobby che cosa fai sì noto che per essere al 100% durante l'attività sportiva è anche giusto ritagliarsi dello spazio libero e io adoro passare i miei momenti con le mie amiche o comunque le persone più care che ho a casa andando in montagna o comunque non facendo solo sport andando a fare shopping o al cinema comunque qualsiasi attività che non c'entri con con l'agonismo perché mi piace proprio staccare dalle gare dagli allenamenti anche quando sono a casa mi piace ascoltare i discorsi che non c'entrano nulla con lo sport non tanto perché sono stufa ma proprio per dividere le due cose poi indubbiamente nel mese che di stop tra le gare mi piace andare in vacanza mare caldo andare un po' al caldo infatti anche durante la stagione di preparazione che vediamo anche tanti norvegesi che vanno a Mallorca in Spagna così per allenarsi c'è un po' di invidia però sì mi piace molto viaggiare e programmare le prossime vacanze che potrebbero essere? hai già in mente? una metà? ma il prossimo anno mi piacerebbe molto andare o in America fare il cost to cost oppure con gli schirolle? no in macchina ok ho ricevuto già qualche proposta per qualche giro in barca in Grecia non male Giulia il luogo più bello che hai visitato sia sportivamente parlando che in vacanza come vuoi tu? ma quest'anno sono stata impressionata da un posto in Grecia sono andata in vacanza in una piccola isola e al mattino abbiamo approfittato per vedere l'alba in una cava naturale e quando siamo arrivati lì con con l'alba e questa cava naturale io sono rimasta davvero senza parole ed è stato un momento magico perché mi ha impressionato la forza della natura che era racchiusa in questo piccolo luogo poi facendo gare indubbiamente abbiamo visitato tanti luoghi mi è piaciuto molto il Canada che è poi simile anche alle nostre alle nostre montagne certo però mi viene in mente questo della Grecia ti viene in mente il mare forse perché sei quasi tutto l'anno sulla neve ma come hai detto tu il vostro sport è a contatto con la natura quindi siete veramente fortunati mi viene in mente magari in Finlandia o al nord quando uscite con le lampade durante il pomeriggio durante anche la mattina a sciare perché è già buio non hai mai incontrato non lo so un lupo un orso oddio no per fortuna quello no no l'anno scorso mi ricordo che ero rimasta impressionata durante una corsetta pomeridiana in Canada che proprio vicino a un sentierino sterrato c'era un alce che era lì tranquillo proprio senza preoccuparsi delle persone lì vicino però nessun incontro particolare che scuola hai frequentato? il liceo linguistico quindi sei riuscita benissimo il liceo tra l'altro è una scuola impegnativa ad abbinare le due cose sport e scuola bisogna farlo sì devo dire che quando diciamo ho messo la testa a posto con lo sport e sono riuscita a organizzarmi bene con lo sport ho iniziato anche ad avere buoni risultati a scuola invece i primi anni ero un disastro completo forse perché hai imparato ad organizzarti ad organizzare le tue cose e sei riuscita ad ottenere buoni risultati di entrambi però io ad ogni ospite chiedo la scuola frequentata per lanciare questo appello ai giovani si può fare sport ad alti livelli senza tralasciare la scuola e si deve lo sappiamo in Italia purtroppo non si è facilitati sotto questo punto di vista però bisogna farlo Giulia siamo in conclusione volevo chiederti vedo che hai le unghie laccate insomma hai tempo lo sport e anche donna ovviamente sì mi piace essere un po' in ordine per chi mi conosce davvero sa che anche da questo punto di vista ero un disastro però invece adesso sicuramente è bello essere concentrati allenarsi però anche fuori prendersi un po' cura di se stessi fa bene assolutamente poi siete anche famose e belle quindi avrete anche un ritorno mediatico più efficace sì diciamo che l'importante poi è sempre sentirsi bene con se stessi senza il secondo fine però indubbiamente siamo visti da tantissime persone fuori quindi anche un minimo assolutamente complimenti degli occhi bellissimi e magari in televisione quando fai fatica non ci accorgiamo ma invece Giulia siamo in conclusione ma non prima di chiederti se hai un idolo sportivo ma no io non ho mai avuto un grande cioè un grande esempio mi piace vedere osservare i grandi campioni come si muovono come si come si atteggiano però non ho la Marit Bjorgen di turno o qualsiasi altra qualche atleta mi piace vedere per esempio la la simpatia delle americane di una Diggins o magari rubare qualche la tecnica di di una Osberg però non ho mai avuto un idolo sportivo Giulia Rantrabocchetto non era l'ultima domanda ma l'ultima è questa spero avrei voglia di rispondermi che cosa ne pensi circa la positività del norvegese su tutti quella di Teresa Joao e quella di Sumbi ma io penso che sia una situazione abbastanza delicata perché sono i due migliori fondisti al mondo e conoscendo i i controlli antidoping ai quali siamo sottoposti è davvero difficile giudicare perché quasi si parlava di una disattenzione o di un di una crema consigliata da da un medico e a me piace pensare che ogni atleta sia sia pulito e faccia del proprio meglio per correre con le proprie forze spero che sia davvero una disattenzione e non certo che non l'abbia fatta appositamente perché comunque è veramente baluardo dello sport dello sci di fondo nel mondo sarebbe un po' una presa in giro per tutti quanti anche per noi che da casa magari la tipiamo grazie Giulia grazie a voi in bocca al lupo crepi è tutto per questa sera grazie per la cortesa attenzione vi rimando mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti